creare progetti per app siti web e social network realizzare grafiche statiche dinamiche ed esperienze per la realtà virtuale e aumentata lavorare nel mondo dei new media dell'interaction e dell'intelligenza artificiale non ti servono tre corsi di laurea te ne basta uno solo il corso di laurea triennale dell'OIED di Roma in media design e percorso di studio ideale per diventare professionisti delle nuove tecnologie designer in grado di sviluppare esperienze trasmediali e progettare opere interattive durante il triennio collaborerai con filmmakers sound designer esperti di game e ti preparerai di fatto al mondo del lavoro in agenzie di comunicazione studi di design e grandi brand del digital entertainment grazie a questo corso potrei mettere in pratica le esperienze fin da subito e diventerai app designer digital art direct autora di esperienze interattive user interface designer game designer user experience designer AI specialist il media designer è uno dei profili più richiesti una figura professionale che coniuga in sé skills tecniche progettuali artistiche il corso di laurea in media design di IED ha un placement del 100% dopo la laurea tutti i nostri studenti dimostrano di avere le competenze necessarie per entrare rapidamente nel mondo del lavoro una ragione in più per inseguire i tuoi sogni sfrutta le nuove tecnologie per progettare il tuo futuro grazie a tutti